Nella storica terra della Magna Grecia, la Cavese ha giocato con lo spirito degli antichi eroi greci. Va al secondo posto dietro al Gelbison campione d'inverno, avendo battuto una Cireale che non perdeva in casa dall'aprile dello scorso anno. 2-1 con i gol di Palma e di nuovo arrivato Banegas, il quale si presenta così ai suoi nuovi sostenitori, che hanno potuto apprezzare la rete solo da casa per il devieto di trasferta. A Daci Sant'Antonio i metelliani avrebbero potuto pagare Dazio a causa delle assenze e anche per l'incredibile espulsione di Altobello, ma hanno anche saputo soffrire. Recriminano a loro volta gli Acesi, che lamentano un arbitraggio negativo e comunque vengono applauditi a fine gara dai propri tifosi che hanno gradito il loro impegno. L'arbitro di Acireale Cavese è Milan, sezione del Valdarno. I biancobluschi erano un 4-3-3, aspettano che i siculi si scoprano per poterli colpire in contropiede e in questo senso è coné l'elemento che può guastare i piani della formazione avversaria. Qui vedete un duro fallo subito dal giocatore ivoriano da parte di De Pace. Quando viene chiamato in causa, il giovane portiere paduano è pronto. Ricciardo, al debutto in Granata, parte molto arretrato, lasciando Piccioni in zona offensiva, ma a creare qualche apprensione all'estremo difensore metelliano sono prima Tumminelli e poi Lodi. Su questa situazione in particolare, De Pace manda la palla ad accarezzare il palo. Al 45esimo, ottima azione corale della Cavese. Inserimento di Caserta che tocca a Diaz, il quale serve palla al centro. Non interviene Coné, ma c'è Palma che infila nell'angolino opposto a quello del portiere Acese, Dalterio. 1-0 per il biancoblu a fine primo tempo. Nella ripresa la Cireale passa al 4-3-1-2 con Russo ed Esposito in campo e tiene più sull'avviso la compagine metelliana, che potrebbe colpire in qualche circostanza di rimessa, ma senza successo. Al 60esimo il gol del pareggio siciliano. Cross di Tumminelli, sponda di Correnti e poi nell'area piccola irrompe Ricciardo, che realizza l'1-1. Al 69esimo, Altobello, già ammonito, va a discutere con Ricciardo. L'arbitro sanziona entrambi col cartellino giallo, ma per Altobello è il secondo, quindi per il capitano Aquilotto la partita è finita. Forse era evitabile. Con un uomo in più, la Cireale spinge alla ricerca del successo e quando tutti pensano al pareggio definitivo, la Cavese colpisce nei minuti di recupero. Carbonaro ruba palla a Tumminelli, entrata di Corigliano su De Pace, Carbonaro serve poi immediatamente Banegas, liberissimo di avanzare in profondità e di dribblare il portiere, prima di deporre in rete. È la palla che vale il 2-1, ma ci sono proteste dei siciliani che lamentano due falli proprio in partenza. Giudicate voi. La Cireale resta in 10 per l'infortunio di De Pace e il risultato finale premia la Cavese, che può sperare ancora nella promozione. Grazie a tutti.